E' stato dimesso nella giornata di ieri il paziente di Ischia trasportato in elicottero al Cardarelli lo scorso 26 novembre a causa del politrauma subito nell'alluvione di Casamicciola. L'uomo era stato preso in carico dal pronto soccorso diretto da Fiorella Paladino e nelle ore successive alla diagnosi trasferito presso il Trauma Center diretto da Patrizio Festa. I diversi traumi al bacino, al costato e alle vertebre e la grave insufficienza respiratoria avevano indotto i medici a riservarsi la prognosi per i primi giorni di trattamento, temendo anche un'evoluzione imprevista in fausta delle condizioni del paziente. In effetti a circa sette giorni dal suo arrivo il paziente era stato trasferito al reparto di rianimazione diretto da Maria Giovanna De Cristoforo del Dipartimento di Emergenza a causa delle gravi problematiche respiratorie causate dal fango e dall'acqua entrata nei polmoni. Era al lavoro, stava controllando gli accessi e il comportamento dei presenti all'interno dell'ospedale. Poi l'aggressione rapida, il getto d'acido che gli stiona la pelle e lo sfigura. È successo all'oretto mare di Napoli, vittima del gesto, una guardia giurata in servizio presso il presidio ospedaliero. A impugnare il contenitore con il liquido orticante, un extracomunitario senza fissa dimora, capace di introdursi nella struttura sanitaria inosservato, eludendo le restrizioni. I roghi registrati nella terra dei fuochi sono diminuiti negli ultimi due anni. Lo scorso anno sono stati 1049 gli eventi registrati, 873 in provincia di Napoli e 176 nel Casertano. Nel 2021 gli incendi erano stati 1.406, ma ben 2041 nel 2020. A renderlo noto l'incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione campagna, il vice prefetto Filippo Romano. Per fronteggiare una probabile nuova ondata di Covid proveniente dalla Cina, la ASL Napoli ha predisposto un piano che prevede ulteriori 150 posti letto coinvolgendo strutture dedicate dal primo piano del Covid Center di Napoli Est a Loreto Mare al Cotugno. L'idea del manager Ciro Verdoliva è di evitare che l'emergenza Covid possa impattare sulla normale attività dei presidi ospedalieri, limitando quanto più possibile le ricadute della gestione della pandemia su altre patologie. Buone notizie per gli utenti della metropolitana Linea 1. Il secondo dei treni comprati dalla spagnola CAF potrebbe prendere servizio alla fine del mese di febbraio. Questo significherebbe scalare due minuti dall'attesa in banchina ancora lunghissima. Purtroppo il condizionale è d'obbligo perché quando a Napoli si parla di metro ogni scadenza va presa con le molle. Stritolate dalle bollette di luce e gas tasche vuote dopo il pieno di benzina, i napoletani sognano per il 2023 un anno segnato dall'amore, dal lavoro e dalla fine una volta per tutte della pandemia da Covid. Sentiamo direttamente da loro i desideri per il nuovo anno che si è affacciato. L'amore sicuramente è una cosa che non puoi non farne a mene. È vigila di campionato e in casa Napoli Spalletti studia e prova la formazione anti-Inter cercando certezze. Rachmani che da tre mesi che non gioca una partita ufficiale molto probabilmente non ci sarà. Dunque con l'Inter è la coppia composta da Juan Jesus e Kim quella che scenderà in campo. Una mostra da guardare, da sentire, da toccare. Dopo Belgio, Cina, Israele, Gran Bretagna e Stati Uniti è arrivata a Napoli nella bellissima chiesa di San Potito. La mostra Van Gogh l'esperienza immersiva dedicata al celebre pittore post impressionista nato proprio 170 anni fa.